Ecco, vedete, questo è agganciato qui, no? L'altro c'è agganciato di là, quindi questo dentro, no? Poi, io leggo le mani, le mani qui, qui, leggo i piedi, i piedi qui al... Potremmo vedere questi, e questo è sicuramente se, ecco, può legare il braccio, vede? Può legare il braccio di qua di là, e i piedi lo stesso, ha questo, ha questo, ha questo, e dunque, e qui se c'è questa cinta perché è, so terribile, questa è questa qui, per regare alla vita, la vita in modo che non si muova. Entrano in mezzo a questo, vedi, sotto, vedi, qui c'è, ecco, si si vede in questo modo, si vede, ovviamente non si vede, e rompono tutto. Dunque, sotto questo, grazie, vi faccio vedere, vi faccio vedere cosa sono capaci di fare queste qui. Questo, questo può essere una ragazza che ha avuto, questo è di acciaio, questo è, corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, va su una qui dentro, se lo troviamo, ecco, questo è, sarebbe questo, vedi come l'ha ridotto, è difficile, poi, con le mani non è possibile, l'ha visto? Il demone è pure del esorcista, il esorcismo è lui che ha paura, e non abbiamo paura a noi, e so quanto è andato in botta al demone, quando mi dice il demone, chi sei? Satana, ah, ora mi sei capitato, adesso ti ho dato un sacco di botti, dunque, e quindi è lui che grida, perché quando grida la persona, ci sono dei gritti qui dalle suole, che si sentono, forse, fino in fondo, fino alla strada si sentono, dunque in bel giardino, ma non è, certamente è la persona che grida, ma è il demone che sente queste botte, diciamo così. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.